salve a tutti bentrovati ad un nuovo appuntamento con il rasoio di occam in questa puntata mi occuperò in particolare di una posizione ideologica chiamiamola anche filosofica politica che prende il nome di cultura della cancellazione da qualche anno ormai ci siamo abituati ad ascoltare questa parola cultura della cancellazione che cosa c'è dietro cosa si nasconde dietro la cultura della cancellazione soprattutto vorrei mettere in evidenza come a un certo punto la cultura della cancellazione cancella se stessa ora per capire la cultura della cancellazione sarà opportuno fare alcuni esempi voi certamente conoscete l'autrice dei romanzi di harry potter joan rowling che ha praticamente passato una brutta vicenda in quanto è stata accusata di essere contro il transgender contro l'omosessualità insomma ha ricevuto gli strali di coloro che difendono le minoranze di genere perché avrebbe detto che non vuole essere chiamata essere che mestrua ma semplicemente donna apriti cielo si è rivolta contro di lei la cultura cosiddetta della cancellazione e naturalmente questa persona ha avuto dei problemi perché questa è una persona che veniva spesso associata al mainstream una persona che veniva come dire collocata in un ambito della società che non certo ci si aspetta possa criticare una certa ideologia eppure anche lei è finita sotto i colpi della cultura della cancellazione che non gli permettono ovviamente la libera espressione del suo pensiero un'altra disavventura è capitata a un altro personaggio che certamente non può essere accusato di essere come dire complottista di essere negazionista di essere di estrema destra richard dawkins questo famoso biologo etologo conosciuto a livello mondiale per essere un ateo incallito ora lui aveva scritto sul suo profilo twitter se una persona si sente uomo o donna dobbiamo prendere questa affermazione letteralmente questa questo suo tweet sui social ha provocato una grande discussione perché ovviamente dawkins da buon ateo e razionalista non crede ovviamente al fatto che uno semplicemente dichiarandosi uomo o donna poi sia effettivamente uomo o donna secondo dawkins c'è una diciamo così un aspetto genetico scientifico che non si può mettere in discussione e per questo motivo pensate non solo si è attirato le critiche della cosiddetta cultura della cancellazione o dei cancellazionisti potremmo dire ma addirittura gli è stato revocato il premio di umanista dell'anno che aveva ricevuto nel 1996 quindi da questo punto di vista si può fare una riflessione certo importante come ormai la cultura della cancellazione colpisca in maniera indiscriminata quindi non più soltanto una certa parte politica non più una certa parte ideologica non più una certa parte filosofica certe posizioni filosofiche ma colpisce chiunque e come vedete colpisce anche persone razionaliste ate persone che fanno della scienza una loro guida oppure artisti scrittori di fama internazionale certamente catalogabili come il mainstream ormai la cultura della cancellazione ha superato le barriere ideologiche evidente che l'aspetto che colpisce della della vicenda di dawkins è che la cultura della cancellazione ormai si colloca in un ambito metapolitico cioè non è più una questione di andare contro questa o quella posizione ideologica oggi la cultura della cancellazione è uno strumento è una clava che viene utilizzata per impedire alle persone di esprimere la propria opinione le persone non possono più liberamente dire quello che pensano e non possono più essere coerenti con il proprio pensiero se un razionalista esprime un pensiero che va di conseguenza al suo essere razionalista viene accusato se un altro atteggiamento filosofico politico viene espresso in conseguenza delle proprie posizioni filosofiche o politiche questo viene attaccato perché perché la cultura della cancellazione ormai si è avvitata su se stessa ormai cancella se stessa è un po come quei serpenti che a un certo punto cominciano a mangiare se se stessi no facendo il giro e cominciando dalla coda e quindi è un serpente che si morde la coda la cultura della cancellazione a volte sembra devo dire la verità questa questo concetto mi sembra molto una boutade alla alla pop art no una sorta di provocazione una cultura che cancella ormai tutto e arriverà a cancellare se stessa lo stesso modo quello che è grave ovviamente è che la cultura della cancellazione lo ripeto è ormai uno strumento non già più per offendere questa o quella parte politica questa quella parte filosofica o questa o quella posizione diciamo così contraria a un'altra la cultura della cancellazione ormai è uno strumento per limitare la libera espressione di un pensiero qualunque esso sia anzi direi di più più un pensiero è coerente con un proprio sostrato filosofico politico culturale e più viene attaccato dalla cultura della cancellazione più una persona è coerente con quello che è il suo portato la sua tradizione il suo modo di vedere più la cultura della cancellazione si attacca per colpire chi esprime questo tipo di pensiero è importante sottolineare che la cultura della cancellazione dal punto di vista filosofico porta una novità che poi fondamentalmente non è una novità perché si tratta di un relativismo estremo potremmo dire anche di una sorta di estremismo costruttivista in che senso nel senso che la verità non è più una coerenza interna al proprio mondo dei valori e al proprio modo di vedere la realtà qualunque essa sia questa questa verità sto parlando della verità per il razionalista sto parlando per la verità dello spiritualista per la verità del religioso cioè la verità sgorga da una attinenza a una serie di valori e di regole che preesistono appunto all'espressione di quella verità con la cultura della cancellazione noi abbiamo una novità in questo senso una novità o pseudo novità e cioè il relativismo estremo la verità è ciò che in quel momento io sento io penso e quindi se in quel momento mi va di attaccare una persona per il puro e semplice motivo che quella cosa che ha detto non mi sta bene in quel tipo di verità in quel tipo di momento ecco mi devo sentire libero di farlo questa è la cultura della cancellazione cioè una una verità ad uso e consumo del momento che però può cambiare in base alle esigenze e mi sembra di capire che il la cultura della cancellazione rifletta molto bene i tempi in cui viviamo cioè una verità di comodo una verità che muta in base alle esigenze e uno strumento costante d'offesa uno strumento costante di limitazione della parola di limitazione dell'opinione di limitazione della propria libertà di esprimere ciò che si sente e che si ritiene vero ripeto attraverso un'attinenza a dei valori che si sono che si fanno propri che si sono acquisiti come propri e allora in conclusione per questo dico che gli esempi che ho portato sono esempi molto importanti perché oggi la cultura della cancellazione non colpisce più in maniera discriminata ma colpisce in maniera indiscriminata colpisce tutti colpisce a destra colpisce a sinistra colpisce i religiosi colpisce i razionalisti atei colpisce chiunque certo ci aspetteremo tra poco che comincerà a colpire anche se stessa e quindi probabilmente morirà di suicidio indotto vi ringrazio per l'attenzione seguite sempre il rasoio di hocam io vi do appuntamento tra una settimana ciao 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 ciao